Siamo con il nuovo dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Castell'Alto. Che anno scolastico sarà questo? Sarà uno scolastico molto importante perché con quest'anno con la legge 107 del 2015, le scuole sono chiamate a fare una progettazione diversa e più importante rispetto agli altri anni perché infatti sarà una progettazione triennale sulla quale la scuola dovrà in qualche modo predisporre degli interventi nell'arco dei tre anni su una serie di priorità che la legge stessa ci pone. Ovviamente noi scegliamo queste priorità, le priorità che sono legate al contesto della nostra scuola ovviamente e in base a quello possiamo portare avanti dei progetti specifici, possiamo chiedere un organico specifico per le nostre specificità, per le nostre priorità, per gli interventi che vogliamo mettere in atto. e chiaramente anche gli insegnanti saranno chiamati a un lavoro diverso, forse anche più impegnativo, però più interessante e più importante. Appena arrivato che tipo di istituto ha trovato? È un istituto complesso perché ha ben 12 plessi, è dislocato su un territorio molto vasto che va dalla Valle del Tordino alla Vomano, quindi pensate che noi abbiamo oltre il Castellalto abbiamo Canzano, Castelnuovo, Villa Zaccheo, Villa Torre, abbiamo ovviamente tre ordini di scuola dall'infanzia alla scuola secondaria, con una popolazione scolastica che supera oltre i mille studenti, oltre 100 insegnanti. Soprattutto è complesso perché questo territorio ha delle realtà diverse, magari la Valle del Tordino ha delle caratteristiche per quanto riguarda il contesto socio-economico, culturale, diverso dalla Valle del Vomano. Faccio un esempio, sulla Valle del Vomano abbiamo più alunni stranieri rispetto alla Valle del Tordino e di conseguenza, chiaro, la scuola è chiamata a degli interventi specifici, ecco il discorso che facevo prima, legati alle esigenze territoriali, esigenze del contesto. E anche per me avere un territorio così basso è difficile seguire in prima persona tutto, perché ovviamente bisogna spostarsi, muoversi, vedere i problemi. Quello che sono contento è che ho trovato un corpo insegnante veramente valido, appassionato, competente e quindi mi sento tranquillo, un po' preoccupato, però anche tranquillo. Un augurio a questi studenti ma anche agli insegnanti? Sicuramente sì, io ho già avuto modo di fare un comunicato all'inizio dell'anno scolastico mi abbiamo messo il sito, li ho incontrati, ho girato già i plessi, sabato abbiamo fatto una bella inaugurazione qui di Canzano della scuola perché aveva avuto dei lavori di ristrutturazione anti terremoto. E quindi intanto ho augurato a tutti un buon anno scolastico, un buon anno scolastico sereno, ho augurato un buon anno anche alle famiglie perché noi sappiamo che sono in buone mani i loro figli e poi un anno scolastico perché quello dicevo prima che sarà un anno scolastico importante anche agli insegnanti, ma perché so che ci dovranno mettere tutta la passione e la competenza di cui sono già dotati.